Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog su Lautel Evo 2. In questo vlog parleremo della qualità dell'immagine di questo quadricottero, in particolare la mia versione 8K, ma parleremo anche di una cosa ancora più interessante di questo quadricottero, della quale tantissimi di voi mi hanno chiesto, mi hanno detto, Issam e io i 4K, il mio computer fa fatica a montarli, come faccio a montare un video di 8K? specialmente con un qualcosa che genera dei file veramente lunghi, perché uno clicca il bottone e poi va a volare e non ferma ogni volta, anche per non dimenticarsi, come faccio a montarlo con il mio computer? Beh, questo quadricottero in particolare fa una cosa molto interessante, che fanno solamente le telecamere di un certo livello, professionali, che costano tantissimo, ma anche questa telecamera della Sony che abbiamo visto in questo video, che adesso è la telecamera che sto utilizzando per filmare fuori i video per voi, e che cos'è questa cosa? Beh, si chiama File Proxy, ovvero il quadricottero che filma in 4K HDR o in 4K a 60 frame al secondo, che probabilmente sono più difficili da montare su un computer degli 8K a 25 frame al secondo, ecco, genera un altro tipo di file più piccolo, meno compresso, con meno dati, meno chiaro, però è molto facile da montare su qualsiasi tipo di computer. Qualsiasi tipo di computer? Sì, anche quello di 10 anni fa, anche senza scheda video dedicata, riesce a montare il video. Una volta montato il video, il computer vecchio ci metterà un po' a generare il file finale, il computer nuovo, recente, potente, potrà generarlo in meno tempo, ma quello non è un problema, perché una volta che abbiamo montato il video, lo lasciamo anche tutta la notte a generare il nostro video in 8K o in 4K a 60 frame al secondo, e possiamo anche pubblicarlo. Beh, uno potrebbe dire, Issam, però questa cosa qui dai proxy si possono generare col computer? Sì, è vero, si possono generare nel computer, però per generare i file proxy in un computer vecchio, ci metti lo stesso tempo, quindi tutta la notte a generare il file, poi dopo dovrai elaborarlo, ogni file che genera poi dovrai aspettare finché lo fa il computer, e poi dopo dovrai farne un altro, eccetera, eccetera, e perdi un sacco di tempo. Con un computer potente lo puoi fare, ma se il drone te lo fa già in automatico, perché dovrai andare a perdere tempo a generarlo, se ce l'hai a tempo zero, ce l'hai già all'interno delle cartelle. Infatti, come potete notare qua, ho fatto delle riprese al mare, all'interno della cartella DCIM ci sono i miei file in 8K o i miei file anche in DNG, in RAW e anche i JPG, però il quadricottero genera un'altra cartella. Questa cartella si chiama THM. All'interno di questa cartella ci sono sia gli stessi file con bassa risoluzione, vedete che questo, per esempio, sempre lo stesso video che c'è qua, però in bassa risoluzione, mentre qua ce l'abbiamo in 8K, andiamo a vedere, qua ce l'abbiamo in 720p. In questa cartella ci sono anche tutte le informazioni del volo, ma anche le impostazioni che abbiamo utilizzato della telecamera per filmare quel video in particolare. e vi faccio notare che qua c'è scritto trattino proxy, a differenza del nome del file, quello grosso, che si chiama così senza questo trattino proxy, però il drone lo genera con una scritta THM. Io ho cambiato qua in automatico, c'è un metodo automatico che farò vedere sul canale Sindrome da Shopping che potete scrivervi qua se non lo conoscete, perché questa cosa è molto utile, specialmente per chi utilizza delle telecamere che generano dei proxy che non vengono riconosciuti in automatico dal programma di montaggio video. Beh, per adesso non ci addentriamo in questo, ma vi faccio vedere la differenza tra un montaggio video con un computer molto potente come questo qua, che è uno dei più potenti, secondo me, ha un costo abbordabile per montaggio video, senza anche proxy, si può montare tranquillamente perché come potete notare adesso, mentre sto registrando la schermata video, comunque lui scorre tranquillamente anche in 8K, ma cosa succede se voglio passare da una parte all'altra? Vedete che ci mette veramente tanto a passare da una parte all'altra, non scorre, ok, vedete che non scorre per niente, però se attivo il proxy che ho allegato, che poi vi farò vedere in un tutorial, come abbiamo detto, su Sindrome da Shopping, vedete che qua posso scorrere tranquillamente, posso girarmi senza problemi, e poi con questa piccola schermata così non perdo assolutamente qualità, perché comunque lo schermo è piccolino, ecco, però posso montare il video tranquillamente con qualsiasi tipo di computer, anche senza scheda video dedicata. Ok, adesso andiamo a vedere la qualità incredibile di questo quadricottero, adesso siamo in proxy, cerco di zoomare, vedete che la qualità fa veramente schifo, perché siamo in proxy, tolgo il proxy e andiamo a vedere per esempio questa piscina, questa è la piscina, inizio a zoomare, spostare l'immagine, zoomare ancora, spostare l'immagine, zoomare ancora di più, spostare l'immagine, adesso siamo a 800, quindi 8 volte in grandimento, abbiamo zoomato, e vedete la qualità dell'immagine, posso zoomare anche di più, vediamo cosa possiamo vedere, vedete qua ci sono degli oggetti all'interno di questo giardino che riesco a vedere chiaramente, è una cosa veramente incredibile, e si riesce a capire quanto è incredibile solamente quando facciamo lo zoom out, questo è quello che abbiamo appena visto, andiamo a vedere questi ombrelloni piccolissimi, questi qua azzurri, zoomiamo di qua, andiamo a vedere, ecco questi sono questi ombrelloni, questi sono gli ombrelloni azzurri che abbiamo appena visto, questa è la qualità immagine di questo quadricottero, ok? Facciamo uno zoom out scioccante, e questi sono gli ombrelloni, andiamo a vedere un'altra cosa, per esempio qua, vedete questa scritta qua? Non lo so se riuscite a vederlo voi, io lo vedo con difficoltà, adesso zoomo mille, e riesco addirittura a leggere quello che c'è scritto all'interno, che è una cosa veramente incredibile. Beh, ci sono tante cose di cui parlare di questo quadricottero, non riguarda solamente la qualità o la risoluzione dell'immagine, ma anche la qualità dell'immagine e tutti gli accorgimenti che hanno fatto, che sono veramente utili, alcuni evidenti, e altri vorrei evidenziare perché magari a una persona normale non gli viene in mente quanto possa essere utile una cosa del genere, prima di acquistare un quadricottero, ma si accorge solamente dopo, quando inizia a utilizzarlo. Spero che questo video vi sia stato utile, se l'ho stato cliccate su mi piace, altrimenti cliccate su non mi piace, e come soltanto vi lascio il link e coupon sconto a questo quadricottero incredibile nella descrizione del video, ma anche su involuconissam.it, potete anche cliccare qua dove ci sono altre informazioni utili, nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima!